e ciao mi sentite si risentiamo io mi scuso ma non ho la webcam sono daniele di roma lavoro in istat volevo affrontare in particolar modo il tema dello smart working ma in realtà vorrei partire da quello che ha detto sandro nella sua ottima relazione anche quello che stava dicendo gianni adesso ossia la centralità delle lotte sul welfare sulla base dello spazio potenziale che in questo momento si apre io penso che il tema della possibilità data in questa fase in questo cambio di paradigma che ci stiamo discutendo sia estremamente importante perché tiene insieme da una parte la lucida consapevolezza del fatto che questo cambio di paradigma non è automaticamente un cambio a nostro favore niente affatto ma allo stesso tempo ci dice che attestarci alla semplice resistenza non sarebbe un posizionamento adeguato i temi che abbiamo hanno attraversato gli interventi rispecchiano delle contraddizioni reali che il governo si troverà ad affrontare e quindi appunto non possono che aprire questi spazi di possibilità perché su un piano ideale saranno costretti a parlare di salvaguardia ambientale saranno costretti a parlare di parità di genere saranno costretti a parlare di tutela dei lavoratori il discorso fatto da mario draghi ce lo conferma e quindi sarà nello scarto tra questi temi ideali e poi come li tradurranno concretamente la fessura in cui provare ad inserirsi e che diciamo una fessura che vedrà welfare e lavoro come elementi fortemente correlati io penso che la relazione di Maurizia l'abbia detto in modo perfetto e penso che questa cosa sia diciamo molto evidente proprio sulla questione reddito salario perché da una parte le lotte sul welfare saranno una componente essenziale nelle lotte per il salario io non penso che le posizioni di confindustria che martella sul sole 24 ore contro il reddito di cittadinanza non sono per niente casuali perché la presenza del reddito per quanto imperfetto per quanto niente a che vedere con quel reddito incondizionato che noi ci auguriamo comunque complica il piano di compressione salariale che hanno in mente e quindi diciamo questa connessione tra reddito e salario mi sembra estremamente rilevante esattamente come rilevante è il diciamo il rapporto contrario quindi come le lotte per il salario e nei luoghi di lavoro saranno essenziali nel significato stesso che può avere una proposta di reddito e la volontà chiara della controparte di farne uno strumento prettamente warfareistico quindi penso che sarà essenziale per le nostre esperienze sindacali restituire questo intreccio perché questi temi non risultino legati semplicemente da un vincolo solidaristico ma da un'effettiva complementarità e da questo punto di vista io vorrei entrare nel merito dell'appunto della questione smart working perché penso che come tema specifico in realtà parli molto di questa dualità della possibilità di essere visto o da una parte come ulteriore spremitura dovuta alla messa al lavoro continua oppure dall'altra parte con il tecnoottimismo di cui parlava Emanuele Di Macao quando in realtà appunto forse dovremmo dirci che lo smart working così come il segno degli altri interventi in discussione sarà determinato esattamente dai rapporti di forza che saremo in grado di mettere in campo quindi senza lasciare anche questo tema che sia determinato dalla capacità individuale di ritagliarsi il proprio spazio di vivibilità o di invivibilità in base al singolo rapporto di lavoro questo perché perché dico ho sottolineato la questione dell'individualità diciamo individualità perché questa forse è la prima illusione che produce o almeno dall'esperienza che ho dentro il mio istituto lo smart working o meglio ancora l'home working ossia il fatto che fondamentalmente ci si possa ritagliare un micro ambito che fondamentalmente in realtà appunto è una pura illusione perché in questa individualizzazione del rapporto di lavoro ovviamente diviene più forte il controllo l'imposizione di carichi di lavoro senza limiti una continuità della prestazione senza disconnessione possibile e che interroga in qualche modo anche noi proprio su come fare sindacato all'interno di una situazione oggi forzata ma domani che potrebbe anche svilupparsi al di là della pandemia ecco penso che questi aspetti non siano per niente chiusi nel perimetro della contrattazione sindacale e vorrei portare un paio di esempi secondo me estremamente significativi se il discorso sullo smart working non viene affrontato a partire dal punto di vista e dalle rivendicazioni del movimento transfeminista viene immediatamente strumento per un rafforzamento dei ruoli di genere e una più efficace consigliazione del lavoro delle donne tanto a favore del diciamo del datore di lavoro dell'impresa che nei lavori di cura quindi è solo nella combinazione diciamo della questione e delle rivendicazioni transfeministe e eh del diciamo della della conflittualità sui regolamenti che normano lo smart working che può trasformarsi in effettivo spazio di emancipazione di tempi di vita altrimenti ricade inevitabilmente in eh diciamo in in qualcos'altro l'altro aspetto che volevo in qualche modo sottolineare è che se non si afferma su un piano politico il diritto alla disconnessione alla scelta al rifiuto del criterio unico delle necessità produttive così come alla contrattazione collettiva degli obiettivi e quindi non a una semplice appunto eh definizione degli obiettivi individuali che diventa sovraccarico cioè quindi se il principio politico è quello con si conferma essere quello della messa al lavoro continua è ovvio che questa avrà rigadute sia su come poi normeranno il lavoro che verrà sia poi sulle politiche attive l'alternanza lavoro non lavoro le modalità appunto di di diciamo di svolgimento e di alternanza del 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 lavoro precario quindi penso che fondamentalmente per andare a chiudere non voglio rubare moltissimo spazio la convergenza tra le nostre esperienze che noi stiamo provando a a praticare a mettere in campo debba porsi due obiettivi senz'altro molto ambiziosi da una parte tentare la convergenza tra forme di lavoro e non lavoro che vivono condizioni diversissime eh dobbiamo dircelo ma che le cui rivendicazioni non vanno viste come sommatoria solidale ma come scombinazione utile proprio all'accumulazione di potere sociale di cui parlava Sandro nella prima relazione e dall'altro anche appunto la convergenza tra due ambiti spesso posti in termini di affiancamento welfare e lavoro reddito e salario il sindacato dei lavoratori la federazione del sociale che invece dovrebbero provare a riconoscere le rispettive rivendicazioni come proprie e quindi comprenetrarsi ma eh come dire non per principio politico ma per guadagnarne inefficacia quindi per conquistare effettivamente spazi di potere diritti e e e quindi nuove possibilità di ulteriore eh di ulteriore contropotere io mi fermo qui e e lascio la parola quindi a a ai relatori 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 a ai relatori